Buche come crateri, strade allagate dopo poche gocce di pioggia, tombini che diventano vere e proprie trappole sia per i ciclisti che per le automobili. Le problematiche di Crema sono state raccolte in un'interrogazione e si riferiscono alle zone più diverse della città. Queste criticità però necessitano di soluzioni rapide. L'ultima interrogazione che è stata discussa ieri durante il Consiglio Comunale verteva sullo stato di strade e marciapiedi che ovviamente sono in condizioni veramente impitose per passare soprattutto alla manutenzione del verde che anche quella si lascia a desiderare. Abbiamo tantissimi filari o comunque gruppi di alberi all'interno della nostra città dove ci sono dei monconi o comunque alberi che noi chiediamo di andare a ripiantumare. Per non parlare poi di infiltrazioni all'interno del cimitero maggiore che causano anche danni alle stesse lapidi oppure l'attraversamento pedonale di Santa Maria dove l'ultima nevicata ha provocato la rottura dei famosi occhi di gatto cioè quei punti luce dell'attraversamento pedonale che l'amministrazione vuole continuamente riproporre nonostante siano completamente inutili. La sicurezza resta dunque la priorità per i cittadini. La viabilità e la sicurezza insieme al decoro urbano dovrebbero essere le stelle polari di questa amministrazione. Purtroppo abbiamo appreso ieri durante la presentazione del bilancio preventivo dei prossimi anni che l'amministrazione ha deciso di indebitare la città aprendo un mutuo con 500 mila euro appunto circa di mutuo per l'illuminazione dello stadio Voltini. Quindi noi crediamo che piuttosto di indebitarsi per queste questioni occorrerebbe spendere un po' di più in decoro sicurezza e viabilità perché è questo quello che i cittadini cremaschi richiedono l'amministrazione.